Buonasera, benvenuti a tutti. Vi do il benvenuto al secondo incontro di questo anno dei Giovedì del Parri. Come chi ci segue saprà, i Giovedì del Parri sono un'iniziativa dell'Istituto Nazionale Ferroccio Parri che ci permette di presentare dei libri particolarmente interessanti, importanti e nuove uscite. Quest'anno i Giovedì del Parri hanno previsto tre appuntamenti online dedicati alla storia dell'Europa orientale e dell'Ucraina. Ovviamente era nostra intenzione portare un approfondimento di carattere storico a quelle che sono le vicende che, come tutti quanti noi sappiamo, in questo momento stanno interessando l'Europa dell'Est con il conflitto russo-ucraino. Il primo incontro ci è già stato il 25 maggio, abbiamo presentato il protocollo segreto, il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia di Antonella Salomoni, che è stato un volume che è stato presentato da Marcello Flores con il coordinamento di Filippo Focardi e purtroppo abbiamo invece dovuto temporaneamente rinunciare alla seconda presentazione che prevedeva il volume e la costruzione dell'Ucraina contemporanea, una storia complessa di Simona Merlio, che sarebbe stata presentata da Antonella Salomoni, ma per problemi legati all'alluvione in Emilia-Romagna l'incontro è saltato, ma prevediamo di recuperarlo successivamente. Ricordo peraltro che tutti gli appuntamenti e quindi anche l'appuntamento del 25 maggio si trova ancora, è possibile visionarlo sia sul canale YouTube dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari che sulla pagina Facebook, così come rimarrà l'incontro di oggi, che vede la presenza, e io lo ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito, la presenza di Andrea Graziosi, che qui con noi questa sera presenterà il suo volume che si intitola L'Ucraina e Putin tra storia e ideologia. È un volume pubblicato dalla terza l'anno scorso e sarà presentato da Giovanni Cadioli. Molto brevemente, prima di passare la parola appunto a Giovanni Cadioli, vi presento i nostri ospiti. Andrea Graziosi non ha bisogno di presentazioni, comunque dirò che è docente di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, è già stato presidente della Sisco, società italiana per lo studio della storia contemporanea, e dell'ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. È tra i principali e più autorevoli studiosi dell'Unione Sovietica, al cui studio si dedica da molti anni, ma anche di storia dell'Ucraina e dell'Europa Centro-Orientale, e ha insegnato tra l'altro all'Università di Harvard, di Yale, Parigi e Mosca. È autore di numerosi saggi. Ricordiamo tra gli altri due importantissimi volumi sulla storia dell'Unione Sovietica, entrambi pubblicati dal mulino, uno nel 2007 e uno nel 2008, il primo dal titolo L'URSS di Lenin e Stalin nel 1914-1945, e l'altro L'URSS dal trionfo al degrado 1945-1991. Ha anche pubblicato nel 2002 per officina libraria la grande guerra contadini in URSS, Bolshevichi e contadini 1918-1933, ma le pubblicazioni del professor Graziosi sono moltissime, io ho voluto ricordare alcune e peraltro c'è anche da ricordare il recentissimo volume pubblicato proprio, uscito proprio per il mulino alcuni mesi fa, Occidente e modernità, vedere un mondo nuovo. Peraltro anche questo è un volume di grandissimo interesse che speriamo magari di avere la possibilità di presentare nelle prossime lezioni dei giovedì del Parri. A presentare il volume di Andrea Graziosi sarà Giovanni Cadioli che insegna storia contemporanea all'Università di Padova, anche il professor Cadioli è uno studioso dell'Unione Sovietica, ha conseguito il dottorato in storia sovietica all'Università di Oxford e per Mimesi nel 2022 ha pubblicato il volume dal titolo Il Monolite e il Mutamento, Continuità e trasformazioni nella politica ed economia dell'Unione Sovietica 1917-1953. Quindi io gli passo la parola e grazie. Grazie Annalisa per questa introduzione, grazie per questa opportunità, sono davvero felice di poter discutere oggi con Andrea del suo bellissimo libro che già che ci sono mostro e mi chiedevo Andrea se potessimo partire con questa discussione di oggi impostandola su una prima domanda relativa a una breve disanima di Ucraina e Russia sovietica o Russia dal periodo che tu ritieni più opportuno, forse dalla guerra civile ucraina fino all'Oludomor e al periodo post bellico, forse per poter inquadrare anche i cambiamenti territoriali che subisce l'Ucraina pre-sovietica e sovietica. Sì, grazie, prima di tutto grazie al Parri, grazie Antonella che non c'è, a cui va tutta la mia amicizia e solidarietà, grazie a chi ci ha presentato. Sì, hai detto bene? È una domanda complicata perché uno dice i rapporti tra Ucraina e Russia in un'epoca sovietica. Già, ma qual era la Russia in un'epoca sovietica? Perché secondo molti, secondo Putin, ma anche secondo molti storici molto bravi occidentali, ma anche secondo l'Unione pubblica, la Russia era l'Unione sovietica, come dice Putin. Ci sono libri di storici, come dire, in teoria molto bravi, specialisti, si chiamano la Russia sovietica, oppure... quindi era la Russia la Repubblica Socialista Federale Sovietica o era la Russia tutta l'URSS? Cioè un mondo russo in realtà sovietico, direbbe Putin. Quindi in realtà è una domanda che coglie subito i problemi. E l'Ucraina facendo parte dell'URSS, che in teoria di russo non aveva niente nel mondo, era l'Unione Repubblica Socialista Sovietica, l'Ucraina faceva parte di un mondo russo senza saperlo, almeno filologicamente, oppure era effettivamente parte di un'Unione di Stati etno-nazionali confederati in una federazione non nazionale, come era l'accordo. Quindi allora è interessante perché la cosa rimanda subito a quando nasce l'URSS, perché come voi sapete l'URSS nasce fra il 22 e il 24, c'è una famosa polemica fra Lenin e Stalin, in cui Stalin diceva di chiamare il tutto Repubblica Socialista russa, federale russa, e Lenin risponde no, ci deve essere una cosa che non ha il nome russo nel nome perché noi non vogliamo rifare un impero russo. Dico subito che Stalin, che fu sconfitto, tutto il resto della sua vita ammise che Lenin aveva ragione, che l'unica soluzione era quella e lui ha avuto perfettamente torto e chiamare la cosa russa, russa era uno sbaglio. Faccio presente che Stalin fa dell'Ucraina nel 45, uno degli stati fondatori delle Nazioni Unite, che a quei tempi non ammettevano l'Italia né Germania per ovvie ragioni, visto che erano nate contro l'Italia e la Germania, ma l'Ucraina come la Bielorussia sono due stati fondatori delle Nazioni Unite, quindi riconosciuti dalla comunità internazionale fin dall'inizio. Ecco, quindi c'è però, questo non vuol dire che la visione originaria di Stalin, che come voi forse sapete è interessante, parlava della Russia come di un continente, quindi non di una cosa etnica, di un continente che è sui popoli, e poi si era deciso di abbandonare questa cosa, ma prima della rivoluzione diceva che la Russia è un continente, quindi un'altra, non è l'Europa per l'appunto, come dice anche Putin oggi, l'idea che la Russia sia Europa è un'idea sbagliata. Altri invece, moltissimi russi anche ho conosciuto, anche Lenin incluso, pensava che la Russia fosse parte dell'Europa. Quindi la domanda tocca un tema fondamentale e la risposta fu ambigua, perché voi sapete che Lenin fece due grandi invenzioni allora, politiche, che servono a capire l'oggi. Una è questa di un'unione federale non etnica, in cui ogni componente va dritto alla separazione, all'audeterminazione fino alla separazione, che è la cosa che nella Costituzione, ripetuta sempre in tutte le Costituzioni, è usata nel 91 al momento dello scioglimento dell'URSS e quindi è stato uno scioglimento costituzionalmente garantito. Perché era possibile? Perché in realtà Lenin inventa con questa federazione non etnica, basata su statica, in teoria il diritto all'autodeterminazione fino alla secessione, quindi non solo l'autodeterminazione, inventa anche lo Stato partito o il partito Stato. E mentre lo Stato è federale, è addirittura largamente federale, il partito non è federale manco per niente. Il partito comunista ucraino è una federazione provinciale del partito comunista dell'Unione Sovietica e quindi obbedisce a Mosca. Quindi in realtà è uno Stato federale con dentro una mano di ferro che il partito, tant'è l'Unione Sovietica crolla quando Gorbaciov, diciamo così, sega il partito sostanzialmente. Perché è il partito che anima lo Stato e che media le contraddizioni sia nazionali che economiche. Lo dico per fare un quadro. Quindi cos'è la Russia in quest'Unione Sovietica? Perché se uno dovesse attenersi che la Russia è la repubblica socialista federale russa, allora l'Unione Sovietica crolla perché la Russia, fra l'altro guardate questa idea non è campata per aria perché nel novantuno la Russia è quella che fa cadere l'Unione Sovietica e lo scioglimento dell'URSS e la conquista e l'autonomia e dell'indipendenza russa è all'inizio la festa nazionale della Repubblica, della nuova Repubblica russa che si libera di questa specie di gabbia sovietica. Pure questo è interessante. Quindi c'è una lettura iniziale che è il contrario di quella putiniana. La Russia è una dei fattori che determina la crisi dell'Unione Sovietica tant'è vero che la Russia appoggia l'indipendenza dei Baltici, Jelsin va a difendere i Baltici nel novantuno eccetera eccetera eccetera. Altre ipotesi non meno vera per questa contraddizione del 22-24 non viene mai sciolta è che in realtà l'Unione Sovietica è un prolungamento genialmente inventato da un grande ideologo dell'impero russo sotto forma non etnica in cui attraverso il Partito Stato si riesce a controllare tutto. Allora i rapporti non sono quindi Russia-Ucraina, sono fra questa cosa qui una Repubblica russa federale che c'è stata e che gioca un ruolo importante con Nielsi nel prolungo dell'Unione Sovietica è un'Ucraina che ha una storia controversa. Sempre poi parliamo del territorio e chiudo perché appunto non vogliamo andare oltre però è interessante che se lo guardiamo lei e tu, se la guardiamo da questo punto di vista e guardiamo da questo punto di vista anche il cambiamento d'idea di Stalin perché è vero che Stalin cambia idea e dice che l'Ucraina ci deve essere. Stalin è molto diverso da Putin. Quindi dice che l'Ucraina non esiste da questo punto di vista Stalin dice che l'Ucraina esiste. Tant'è vero che la metto pure le Nazioni Unite e lei ne aveva ragione e io ho torto. Se la guardate così il problema sono i rapporti tra questa Ucraina, adesso mettendoci dal punto di vista, e questa creatura generale gestita dal partito. Il partito a sua volta è gestito da Stalin per più di 25 anni diciamo così direttamente. Beh lì il problema è molto semplice. Stalin all'inizio negli anni venti fa una politica molto favorevole delle nazionalità, come tutti forse sanno. Nel 29 per l'esigenza della rivoluzione dall'alto che lui lancia inizia un'opera di centralizzazione che molte repubbliche vedono male perché centralizzando gli toglie potere. Gli ucraini all'inizio, i dirigenti nazionalcomunisti ucraini all'inizio l'appoggiano perché pensano che così facendo conquistano le città, perché il grande problema dell'Ucraina era le città che erano abitate da russi, ebrei, polvacchi e da pochi ucraini. Loro speravano che con una industrializzazione molto rapida i contadini ucraini arrivassero in città e ucrainizzassero le città. Stalin fra l'altro gliel'aveva apertamente detto, faccio presente visto che parliamo a colleghi italiani, che questa è la stessa teoria che Tito cita di Stalin per dire che Trieste è una città slava e non italiana perché le campagne intorno a Trieste sono slave, le campagne intorno a Kiev sono ucraina e quindi Kiev è una città ucraina. Quindi è la teoria ufficiale anche avanzata da Stalin. Il problema è che centralizzando e facendo la collettivizzazione e suscitando una forte opposizione anche dei nazionalcomunisti ucraini, che gli erano stati fedeli, Stalin nella crisi del 32-33 capisce che quella ucrainizzazione, quei nazionalcomunisti ucraini non vanno bene e che deve fare un'Ucraina di suo gradimento. E siccome è un teorico marxista, questo va sempre ricordato, e crede nella manipolabilità della società e della nazionalità, non crede ai popoli eterni, decide che lui può fare i suoi ucraini di suo gradimento eliminando un'elite e con la fame insegnando una lezione ai contadini. Ma una volta che ha fatto questa operazione, con successo terribile, diciamo adesso è inutile parlare, penso a 4 milioni di morti in pochi mesi, un'intera elite sterminata, tutti i dirigenti nazionalcomunisti ucraini che commettono suicidio nel 33-34. Lui a questo punto l'Ucraina che resta è un'Ucraina che deve restare, in cui i dirigenti si devono mettere la camicetta a fiori ucraini, in cui il balletto è quello ucraino, in cui l'Ucraina entra lì e in cui a questo l'Ucraina che piace viene data la piena possesso di territori che il nazionalismo ucraino è rivendicato. Questo è l'ultimo punto che voglio trattare. È molto interessante, Stalin quando fa il patto Molotov-Ribbentrop e poi invade la Polonia, diciamo se noi diremmo fa guerra alla Polonia, in realtà presenta la cosa non come una guerra ma come un'operazione militare speciale perché non sta facendo guerra alla Polonia, sta liberando i territori ucraini occupati dalla Polonia e quindi non è una guerra contro i polacchi, lui è molto attento a dirlo, non sta facendo come tedeschi che invadono la Polonia storica, ma sta liberando le regioni bielorusse e ucraine occupate ingiustamente dai polacchi, regioni che vengono date alla Repubblica Bielorusse e alla Repubblica Ucraina-Sovieti, completando il sogno della grande Ucraina che era quella del nazionalismo ucraino, anche quello di destra, ma di tutto il nazionalismo ucraino e poi lo completerà ancora di più nel 45 eccetera eccetera. A questa cosa, sempre in questo ambito strano, poi mi fermo se non finiamo più, però credo che si è capito che i problemi sono tanti, nel 54 Khrushchev aggiunge il dono della Crimea per segnalare che non ci sono problemi diciamo di nazionalità in Unione Sovietica. Ecco, l'unica cosa per aggiungere una parola sola, nel 53 e 54 morto Stalin con Khrushchev inizia un'operazione di russificazione dolce che ha successo e che va tenuta sullo sfondo perché è quella che serve a capire, diciamo, le cose che sono successe dopo il 91. Fantastico, grazie mille, ovviamente dal mio piccolo non potrei concordare di più e rispetto a due due bellissime espressioni che hai usato, eh, che deve restare l'Ucraina che piace, eh, l'Ucraina che piace a Stalin. Eh, mi chiedevo se, ehm, potremmo parlare della Donbass industriale, eh, di uno dei, di uno dei fiori all'occhiello del, della, della grande rottura dei diritti per l'uomo, eh, Donbass sovietico, ehm, del Donbass sovietico come modello di industrializzazione e modernizzazione staliniana, ma anche di, eh, resistenza durante la guerra e soprattutto di grande ricostruzione post bellica a seguito della, della distruzione nazista. Beh, questo che hai detto è molto interessante sul Donbass perché, eh, io partirei addirittura da prima. Il Donbass storicamente è una regione ucraina, cioè in cui, eh, diciamo così, i contadini erano ucraini. Eh, erano ucraini e è già un centro di industrializzazione dell'impero zarista, è il centro dell'industrializzazione dell'impero zarista. Il Donbass viene sviluppato da inglesi, gallesi, da ingegneri, eh, perché è un bacino industriale, il BAS sta per bacino, è come la RUR, è come, eh, e ci sono le miniere di ferro, di carbone, di argilla, di, di molti minerali, di, ci sono un sacco di miniere e quindi lì nascono le prime fabbriche, l'industria pesante dell'impero zarista, è la base di potenza dell'impero zarista. Questo vuol dire nel Donbass già arrivano a fine ottocento immigrati da tutto l'impero. Quindi il carattere urbano di cui parlavamo prima, di città in Ucraina che non sono Ucraina, eh, linguisticamente, culturalmente, etnicamente, nel Donbass è uguale ma è molto recente perché queste città crescono enormemente col boom industriale a fino a ottocento. Quindi voi avete che le città del Donbass, non del Donbass, scusate, le città del Donbass diventano grandi centri industriali moderni rispetto all'impero zarista con una popolazione di immigrati a tutta la Russia. Uno tipico è Khrushchev, che è un pastorello russo di una regione sottosviluppata della Russia, il cui padre va a fare il minatore nel Donbass e anche lui da giovane va a fare il minatore nel Donbass perché lì c'è il lavoro moderno con il salario, come i calabresi vanno a Milano, tale e quale, diciamo. Quindi questo già cambia la fisionomia. Una cosa che cambia ancora di più la filosofia, la fisionomia. E che è molto interessante anche questo, è che siccome già l'impero russo si era posto il problema degli ucraini e aveva vietato l'ucraino come lingua di insegnamento perché era un dialetto. Qua va semplicemente ricordato a chi ci sente che il russo è una lingua giovane, stata formalizzata nella seconda metà del Settecento, non ci sono testi russi precedenti. L'Ucraina è stato formalizzato qualche decennio dopo. Quindi i russi avevano piena coscienza che le lingue erano manipolabili, molto più di noi, perché l'avevano appena fatta una. E nel Sessantatré vietano l'uso dell'ucraino come lingua di insegnamento, al contrario l'impero sbulgico, dove è permesso. E questo fa sì che siccome il Donbass è la prima ragione a essere modernizzata e quindi anche scolarizzata, una delle prime regioni, certo, anche le capitali, eccetera, l'alfabetizzazione viene fatta anche nelle scuole di campagna in russo e non in ucraino. Questo vuol dire che i contadini ucraini vengono alfabetizzati in russo nel Donbass. Faccio presente, io lo dico sempre per ridere, ma è abbastanza vero, che se Napoleone avesse vinto a Waterloo, i contadini piemontesi e toscani, annessi all'impero, sarebbero stati alfabetizzati in francese e probabilmente parlerebbero francese. Perché se uno viene alfabetizzato in una lingua simile alla sua, in genere funziona, l'esperienza storica è che funziona. Questo fa sì che nel Donbass, già nella guerra civile, sia una regione molto particolare, che i bolshevichi siano molto forti, proprio perché sono questi centri industriali, operai, con nazionalità miste, quindi con un partito comunista relativamente forte, con la sinistra particolarmente forte, e questi bolshevichi del Donbass non vogliono entrare in Ucraina durante la guerra civile. E vengono costretti a farlo da Lenin, fra l'altro il loro capo è Stalin, il gruppo ucraino del Donbass, c'era Voroshilo, per chi sa questi nomi, Caganovi, c'era gruppo ucraino del Donbass, diciamo, il gruppo, scusate, bolshevico del Donbass, Artiom. Faccio presente, Artiom era il capo, adesso Bakhmut è stata richiamata con il nome di Artiom, da Putin, che mi ha molto colpito, perché Artiom decide di essere antibolshevico, ma ha dato la città riconquistata, secondo lui, il nome del capo dei bolshevichi del Donbass. È abbastanza divertente, diciamo. Lenin li costringe e Stalin accetta per due motivi. Uno perché così, dice, l'Ucraina col Donbass dentro è più controllabile, questo è come la pensava pure Putin, perché lì c'è un gruppo forte, bolshevico, con partigiani, c'erano distaccamenti rossi, eccetera, eccetera. E poi perché effettivamente, diciamo, la massa dei contadini, e qui torniamo alla teoria per cui sono i contadini a determinare nazionalità, che era allora la teoria ufficiale del marxismo, del marxismo, diciamo, da Kautsky in poi. Ma anche Engels, diciamo, aveva alla fine accettato l'idea e soprattutto poi Bernstein, Bauer, la seconda internazionale, accetta l'idea che la nazionalità è determinata dalle campagne dei contadini. Quindi è giusto il Donbass e l'Ucraina e questi bolshevichi ucraini, scusate, del Donbass, sono costretti a stare in Ucraina dove sono, è difficile dire, rappresentanti dei russi. Sono rappresentanti, e l'idea da questo punto di vista, arriviamo molto alle cose di oggi che tu dicevi, sono rappresentanti di questa formazione sovranazionale che c'è. Ora, tu hai detto giustamente, non solo un altro concetto sul Donbass, il Donbass rimane una grande zona industriale dell'Unione Sovietica, protesterà contro Stalin, perché Stalin aprendo il Kuzbass in bacino della Siberia, scusate, sì, del Siberiano, ma anche degli Urali, toglie prestigio e potere alla zona industriale del Donbass. Quindi, per esempio, molti amministratori del Donbass durante il piano quinquennale si sentono, come dire, disminuiti. Ciò non toglie che il Donbass resta una grande regione industriale, operaia, mineraria, e finisco con questo concetto perché secondo me è molto interessante. Quindi privilegiata. Voi sapete che l'Unione Sovietica le razioni, diciamo i rifornimenti, poi nei variati di crisi diventano razioni, però di fatto hanno razioni pure quando non si chiamano così, perché se una città la rifornisco di carne, una città no, quelli senza carne non mangiano carne, diciamo. Il Donbass era rifornito perché era una zona di operai dell'industria pesante e di minatori. Questo fa sì, e guardate, questa è l'ultima cosa a poter dire, che gode di privilegi per tutta l'epoca sovietica. E quando dopo il fallimento, ci torniamo delle riforme di Gorbaciov nell'85-86, che è la cosa vera e importante da tenere presente, cioè il fallimento delle riforme economiche. Le so con te sfondo una porta aperta, ma tutti pensano che l'URSS è crollata per ragioni nazionali. Quelle sono venute dopo. Prima c'è il fallimento delle riforme economiche. Il sistema irreformabile, quindi ognuno va per i fatti suoi, diciamo così, con tristezza. Ma dopo il fallimento delle riforme economiche, cui i minatori del Donbass non sono contrari all'inizio e gli amministratori del Donbass, addirittura questi stessi minatori, operai dell'industria siderurgica, scendono in sciopero a favore della fine dell'Unione Sovietica, di fatto, a fuori di Yeltsin. Transitano tutti con Yeltsin, i grandi scioperi dei bacini industriali, perché sono vittime, questo è appunto il concetto con cui ho detto, vittime di questa illusione che condivisa anche dai russi di Mosca, di Leningrado, che ho sentito tante volte in quegli anni. Che sì, sì, è vero, nel 17 abbiamo sbagliato, abbiamo preso la strada sbagliata, quella del socialismo. Bastava, adesso abbiamo capito, abbiamo sbagliato, facciamo il capitalismo e tutto va bene in cinque anni. Come se fosse possibile che uno ripara a 74 anni, semplicemente dicendo sbagliato, adesso riparto, divento come la Germania subito, no? La grande illusione delusa degli anni 90. Un paese che non aveva nemmeno le carte di credito e le banche, nemmeno il codice commerciale. Come faceva a fare la Germania, lo sapeva solo il Dio, diciamo. Però l'illusione era questa. Questi operai dicono, sì, scioperiamo, chiudiamo, perdono i privilegi, cade l'Unione Sovietica e fanno la fine dei minatori inglesi con la Thatcher. Il Donbass diventa una grande zona di nostalgia per i privilegi sovietici. Ecco, con questo vorrei finire. Dopo aver contribuito, come dire, attivamente alla fine dell'Unione Sovietica, si accorgono che loro per migliorare erano peggiorati. Quindi è molto interessante, se voi seguite, e la ripresa della, poi ne parliamo dopo, casomai perché riguarda il post 91, ma la ripresa del sentimento pro-sovietico nel Donbass è molto diversa da quella. Putin non è un pro-sovietico. Putin quando può parlare male di Lenin, la cosa tipica è che nel Donbass rialzano le statue di Lenin quando Putin parla male di Lenin. Quindi è abbastanza interessante, ma ne parliamo dopo. Perfetto, grazie mille e assolutamente hai introdotto diversi temi che torneranno in una delle prossime domande. Mi chiedevo se adesso potessimo parlare sostanzialmente di quel capitolo e sottocapitolo del libro che si chiama Il cammino dell'Ucraina, inteso come sostanzialmente gli sviluppi e tutte le varie questioni e problematiche nelle quali incorre l'Ucraina, sostanzialmente come giustamente dicevi, dal momento del fallimento delle riforme economiche gorbacioviane e quindi poi la discesa nel tentativo fallito di rinnovare l'URSS, il referendum, il tentativo di colpo di Stato, fino sostanzialmente all'Ucraina come era prima della guerra e poi discuteremo anche del se la guerra in Ucraina vada intesa come una guerra 2022-2023 o 2014-2023. Però chiaramente per farlo dobbiamo chiederti di parlare. Diciamo subito che una guerra comincia nel 14 perché solo così si capisce, quindi questo lo togliamo di mezzo. Diciamo subito anche perché permette di capire che è una guerra fra scelte europee e scelta euro-asiatica. Non c'entra niente la Nato, c'entra se l'Ucraina sta di qua o di là del crinale russo-europeo, visto che i dirigenti russi si credono non europei. visto che la Russia non è Europa, per questo gruppo, non tutti i dirigenti, questo gruppo qui noi abbiamo la grande sfortuna che per la prima volta dai tempi di Pietro il Grande probabilmente c'è al potere un gruppo compatto che crede che la Russia non sia parte dell'Europa. Questa è una cosa che non si riesce a far capire perché tutti pensano che siamo tutti europei e quelli non ci credono. Allora, anzi l'Europa è anche corrotta, maligna, eccetera. Però allora questo è molto interessante perché nell'85 quando si fanno le riforme, quando Gorbaciov fa le riforme, sono tutti d'accordo che bisogna fare le riforme. Non c'è nessuna opposizione all'idea di fare le riforme perché tutti sanno che il sistema economico sovietico non regge, adesso è inutile parlare delle cause. E tutti affrontano le riforme con molto ottimismo fra l'altro, cioè convinti che bastasse eliminare la corruzione e l'alcolismo sostanzialmente. Uno dei primi provvedimenti è il proibizionismo che viene fatto, la legislazione molto dura contro la corruzione. Queste riforme falliscono miseramente già nell'86. Da questo punto di vista Cernobil che non a casa in Ucraina è un po' un simbolo del fallimento. Però voglio dire, è sbagliato vedere, l'ho detto un simbolo, non più di un simbolo. Le riforme falliscono dappertutto, loro sono nei guai economici già fino a 87, molto gravi, molto gravi. Si capisce che questa economia non va da nessuna parte e progressivamente tutte le élite delle repubbliche che condividono una cultura comune sovietica, perché sono passati 70 anni. Mica c'è il croce che torna, mica c'è Togliatti che torna all'Unione Sovietica. Sono passati. L'élite sovietica, l'élite sovietica, il capo dell'Ucraina, il capo del Kazakistan, il capo di Russia democratica, sono tutti membri dell'ufficio politico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Hanno tutti una cultura sovietica. Hanno tutti letto le cose sovietiche e condividono dei valori. Fra l'altro tutti vogliono bene all'Unione Sovietica. Io invito tutti ad andarsi a leggere le memorie dei partecipanti della di Elaviesche, la foresta in cui fanno l'accordo per scioglione sovietica e sono uscite, è stata estremamente, perfino una traduzione italiana dal mulino e tutti i partecipanti che ricordano a quanto ci è dispiaciuto di scioglione sovietica, come era bello un paese che andava dal Caucaso fino a Leopoli, fino in Siberia, fino all'Asia centrale. Però non si poteva fare altrimenti perché in un sistema fallito ognuno doveva arrangiarsi da solo. Sostanzialmente questo è quello che emerge. Cioè veramente è impressionante a questo punto di vista. Ora in questo fallimento generale l'Ucraina si ritrova in una situazione molto diversa dalla Russia perché noi parliamo sempre della crisi russa agli anni 90 che è vera, ma la Russia agli anni 90 ha molti soldi anche rispetto a questi paesi. Prima di tutto perché non ha più le spese militari. da grande superpotenza. C'è un dividendo della pace, come si è chiamato allora, molto grande perché la parte di spese militari era enorme. Secondo, continua a esportare gas e petrolio, cosa è Ucraina, Bielorussia. Da questo punto di vista è più simile ai paesi dell'Asia centrale. Cioè ci sono soldi a Mosca, ci sono grandi ministeri, c'è un'elite tra virgolette imperiale, nel senso che pensate allo Stato Maggiore. Cioè aveva la sezione regione militare ucraina. La sezione regione, cioè quella resta, c'è la porta con sopra scritto, io l'ho vista. Diciamo, era una burocrazia che amministrava quella confederazione in teoria non etnica di cui abbiamo parlato. In Ucraina non c'è niente di tutto questo. non ci sono resti di burocrazia imperiale, ci sono dei dirigenti sovietici che sono tristi da scena unione sovietica, pensano sia inevitabile, cercano di costruire qualche cosa. Non ci sono soldi. C'è gente, diciamo per esempio moltissimi ucraini negli anni novanta vanno a lavorare in Russia. Questa è una cosa di non scarso significato perché vedono una cosa che non gli piace. Perché in Russia, tranne che a Mosca e nelle grandi città, ma soprattutto a Mosca e Petroburgo, si vive molto male anche. Peggio che in Ucraina, malgrado tutto. Almeno diciamo in tempi di pace. Quando sono andati lì vanno a vedere una cosa, sì quelli vanno a Mosca, poi andate nelle, perché c'è andato nelle cittadine provinciali russe come era la vita, diciamo, era pesantissima, non pesante. L'Ucraina si ritrova così e è costretta a fare alcune scelte, io sarei, proprio per fare brevissimamente, la prima scelta è che costituzione fare. E per ragioni sovietiche, questo va sottolineato, la parte buona dell'eredità sovietica, fanno una costituzione non etnica. Pensate ai paesi baltici che sono stati presi in Europa e fanno una costituzione etnica. L'Ucraina fa una costituzione per cui c'è lo ius soli perfetto. Non c'è una lingua nazionale di fatto all'inizio, alla fine dopo tante pressioni adesso la stanno facendo, ma questo è il risultato delle pressioni russe, ma per trent'anni diciamo c'era un sostanziale non bilinguismo, trilinguismo addirittura. Nel senso c'era una parte che parlava ucraino, una parte parlava russo e una maggioranza che parlava indifferentemente tutte e due, un misto delle due, una specie di creolo, questo surgic come si chiama. Quindi non è vero, tutte le nazioni del bilinguismo non ci sono, cioè era una comunità molto plurale. La stessa pluralità la ritrovavate nella religione. È vero che anche in Russia c'era la chiesa russa ortodossa e poi c'era l'Islam, però il cristianesimo era monopolizzato alla chiesa ortodossa russa. In Ucraina voi avevate diciamo almeno tre chiese cristiane con lo stesso titolo, spesso con la stessa cattedrale nella stessa piazza, no? C'è la chiesa greco-ortodossa uniate, la chiesa ortodossa ucraina, la chiesa ortodossa russa. Prima c'era anche un'altra chiesa ortodossa ucraina autocefala che poi è confluita in quella l'altra. Poi c'erano i cattolici perché un po' di polacchi sono rimasti, poi c'erano gli ebrei, cioè era una situazione quindi molto plurale con pochi soldi, con uno stato che era difficile da ricostruire. Questa grande fluidità, in Ucraina nessuno è riuscito a vincere due elezioni consecutive praticamente. In Russia Putin c'è stato Yeltsin e poi c'è stato Putin, sì c'è stata la falsità dell'interregno di Medievia nel 2008 ma insomma tutti sanno che il presidente continuava ad essere Putin. Quindi voi avete un paese molto diciamo così che è difficile mettere insieme, che sembra una grande debolezza, ma che col seno di poi è anche una grande forza perché è un paese che si convince che l'unico cosa da fare è accettare questa diversità e aprirsi. Io direi che questo naturalmente è un processo che prende molti anni, non è una cosa predeterminata, poteva non finire così. Il Donbass per esempio continua a essere una cosa anomala. Adesso non per affrontare il Donbass magari, ma però per esempio quando, mi fa sorridere, non so se l'ho scritto nel libro, ma se voi vedete gli opinion polls, i sondaggi degli anni 90, quando chiedevano a quel Donbass, non tutti, siete russi e ucraini. Una parte c'è ucraini, una parte c'è russi, una maggioranza diciamo siamo sovietici. Cioè non so come dire. C'era veramente una diversità molto forte, mentre in Crimea per esempio ci sono tutti russi, perché erano coloni arrivati lì dopo il 45 sostanzialmente. Quindi l'Ucraina diciamo ha un processo di costruzione basato su questa apertura che è legata anche alla storia sovietica, è legata per esempio a quella russificazione dolce di cui parlavo, per cui il russo era penetrato ovunque. Se uno vuole fare carriera in Unione Sovietica, il russo è una lingua veicolare. Io faccio sempre l'esempio. Gli irlandesi parlano cosa? Gaelico, no, parlano inglese. Dite a un irlandese che è inglese, vi dà una botta in testa. Cioè non è vero che se io parlo una lingua veicolare divento automaticamente di quella nazionalità. Cioè la lingua non è sempre la bandiera della nazione. Noi siamo abituati Dante, Manzoni, la lingua, la lingua, la nazione, ma non sempre è così. A volte è così, a volte no. Allora in Ucraina non era così. Soprattutto grazie a questa russificazione dolce, per cui tutti quasi di ucraini che avevano fatto un minimo, chi voleva andare all'università tranne che fecesse folclore ucraino doveva sapere il russo, se voleva fare ingegneria, fisica, matematica, chimica. Quindi il russo era la lingua veicolare di tutti gli ucraini, come l'inglese lo è degli irlandesi. Allora, come dire, il processo è stato molto lungo di differenziazione, non era facile. Se uno vuole vedere le tappe, probabilmente le tappe sono legate anche, direi, alle politiche russe, sostanzialmente, e alle esperienze prima in Russia e poi in Unione Europea. Io credo da questo punto di vista un'altra cosa importantissima sia stata l'esperienza che loro fanno prima come immigrazione. I russi, avendo i soldi, non emigrano, no? I russi vengono a fare turisti in Italia, come tutti sanno. Non è che noi abbiamo le badanti russe in Italia o gli operai russi. Noi abbiamo i signori russi che vanno a Cortina d'Ampezzo, comprano le ville sul lago di Como, proprio un'altra esperienza in Italia. Gli ucraini hanno un'esperienza di emigrazione dal basso, sia di Russia che Italia, per esempio anche questo contribuisce alla loro evoluzione. Direi che la vera prima chiarimento si fa nel 2004 con le rivoluzioni colorate, con la rivoluzione arancione, diciamo. Il primo vero chiarimento. Ed è legato anche alla scelta dell'Olodomor, cioè della grande carestia di cui abbiamo parlato, come memoria nazionale. Che era stato prima, diciamo, perché ripeto, negli anni novanta era molto confuso. Negli anni novanta, per esempio, i nazionalisti ucraini etnonazionali eredi dell'OUN avevano avanzato l'idea che la vera radice, la vera memoria storica doveva essere il movimento nazionale dell'OUN, dell'Organizzazione dei Nazionisti Ucraini. Il fatto che si scelga l'Olodomor, che non a caso è un'esperienza sovietica, non della Galizia, è molto importante da questo punto di vista. Cioè è un paese che rifiuta l'identificazione con una parte più piccola, sceglie una parte più grande, però sceglie una parte che ha sofferto una politica decisa a Mosca. Io ancora oggi, poi finisco con questa prima, però è interessante, io ho delle, non liti, ma diciamo dei conflitti che i miei amici ucraini dicono, hai visto, i russi sono sempre uguali. Io dico, sì, i russi non sono sempre uguali, perché nel 32 l'Olodomor non ha due cise russi. L'ha deciso un giorgiano che era comunista e che l'ha fatto perché ha fatto una collettivizzazione socialista fallita in cui il nazionalismo russo non c'entra proprio niente perché Stalin sta ammazzando un sacco di nazionalisti russi. Quindi se voi dite così, perdete la storia. E loro però rispondono, e dal loro punto di vista non lo ricapisce, però sempre una politica decisa Mosca era che ci ha fatto morire di fame. È come gli neghi che era così. No? Cioè ha voglia affari della filologia. Allora quando tu scegli come mito nazionale che sei vittima di una politica decisa a Mosca, non lasciamo perdere la decisa un giorgiano per fare il socialismo. E intanto tu non vuoi Mosca nel tuo paese. Allora questa è stata un'altra cosa importante. L'altra cosa importante, e con questo finirei perché sennò poi non parliamo più di niente, è stata l'evoluzione di Putin che è legata alla sua percezione dell'indebolimento occidentale, secondo me, di dire io posso rifare un mondo russo e l'Ucraina ne è parte imprescindibile. E quindi gli ucraini si sono sentiti dire voi fate parte di noi, non siete, non potete stare con l'Europa, non siete ucraini e non potete stare con l'Europa, siete russi e dovete stare con l'Unione Euroasiatica. No, lui lancia mondo russo 2007, Unione Euroasiatica subito dopo. Arrivando al 2014, perché Yanukovic cade, perché Yanukovic, che è l'uomo di Putin a Mosca, rifiuta di fermare il patto di associazione con l'Unione Europea e vuole aderire all'Unione Euroasiatica di Putin. La vera questione, questo uno dovrebbe capirlo, per cui inizia la guerra nel 2014 è quella, l'Ucraina sta con l'Unione Europea o sta con questo mondo russo che Putin vuole rifare? E gli ucraini sono liberi di scegliere con chi debbono stare o no? Questo è un po' la questione. Si dà il caso e a questi gli piace di più l'Unione Europea, cosa che io non posso certo criticare, stendo parlando da Roma, diciamo. È chiaro che Putin lo considera un'invasione enorme del suo progetto, una cosa eversiva del suo progetto, ecco. Quindi si arriva a un motivo vero di guerra, eh? Nel 2014, questo è. Fantastico. Ricollegandomi a diverse cose che hai, vorrei passare all'anomalo Donbass post-sovietico, sì in relazione a quello che dicevi di questi, dei bolshevichi del Donbass che sono rappresentativi di una formazione specifica e ascrivibile nelle categorie eh semplicistiche che che spesso si usano eh e portare questo discorso appunto come hai già accennato al periodo al periodo post-sovietico dove eh il il privilegio eh della della grande zona della grande zona industriale viene meno con diversi elementi della grande della grande zona stessa eh e come dicevi gli operai del Donbass diventano vittime di questa grande illusione che eh basta proclamarsi capitalisti, sciogliere il Gosplan e andrà e andrà tutto bene. Questo anche in relazione al cercare di smascherare le semplici equazioni tra nostalgico dell'URSS e filo russo come hai già detto eh come hai già ricordato eh Putin è sicuramente un nostalgico dei confini dell'Unione Sovietica e sicuramente non lo è del sistema eh del sistema sovietico eh del sistema socialista sovietico e quindi mi chiedevo se se potessi dirci qualcosa di più rispetto a come queste tematiche si sono eh si sono intersecate nella specifica zona del Donbass che appunto come andremo a vedere poi eh insomma nel dal dal duemila quattordici in poi diventa uno dei centri focali che purtroppo ancora è della guerra. Sì no questo è molto interessante rispetto anche all'Italia perché in realtà gli italiani secondo me pensano a questa guerra molto specie a sinistra pensando al Donbass. Prima vorrei chiarire che Putin è un anticomunista militante aggressivo bianco di tipo proprio di quelli che ammazzano i comunisti con piacere diciamo ecco questo sia bene che è il motivo per cui era molto simpatica una parte dell'elite occidentale eh perché sennò uno non lo capisce. Putin è uno che stima Solzhenitsyn che è molto meglio di lui quindi io non voglio diminuire Solzhenitsyn associandolo a Putin ma è uno che eh ha i suoi eroi indenichi nel capo dei bianchi nili nel capo dell'ideologia bianca più antioccidentale possibile stiamo parlando di di gente diciamo un'azistoide vera diciamo eh per capirci che se la legge fa fa la sua impressione. Cioè Putin è una ha un'ideologia anticomunista estrema questo sia chiaro. Ammira Stalin perché Stalin ben che ha ammazzato Stalin ha ammazzato più comunisti però ha ammazzato più preti che comunisti d'altro canto perché a Putin non gli può piacere perché la chiesa ortodossa è stata distrutta da Stalin. Però Stalin ha rifondato il mondo russo lo ha reso e gli ha fatto conquistare Berlino quindi in fondo il mondo sovietico staliniano post 45 con la cortina di ferro è un mondo dominato da Mosca quindi un mondo russo enorme che arriva fino a Berlino a Praga a Varsavia no? Quindi da questo punto di vista il rapporto di di Putin con Stalin è molto contraddittorio ci tenevo a dito perché se no non si capisce cioè Putin è uno che ha alzato i monumenti alle vittime del terrore eh non è uno che è un anticomunista nazionalista russo che ha fatto santi tutte le vittime del terrore comunista eccetera eccetera eccetera. Il Donbass è complicato dopo perché per quelle ragioni che si dicevano prima prima è tutta una zona dove gli ucraini ci sono e come contrariamente alla Crimea se no non capite il 2014 perché in Crimea prendono il potere senza problemi quando provano a prendere il Donbass vengono cacciati e l'esercito russo deve intervenire. Cioè il Donbass non è per niente omogeneo c'è una grande parte pro ucraina se no non capite il Bakhmut oggi non capite la resistenza non capite perché le repubbliche non a caso popolari del Donbass sono rimaste piccole piccole nel 14. Il Donbass è una regione dove non c'è un gruppo dominante nel 14. Ci sono varie forze c'è sicuramente una parte filo moscovita ma perché è filo sovietica non a caso fa le repubbliche popolari non a caso rialza come dicevo le statue di Lenin che Putin Lenin per Putin l'ha detto lui quando è invaso l'Ucraina è un traditore della Russia un essere mostruoso non ha detto il nonno era ebreo ma sicuramente l'ha pensato e Putin non fa dichiarazione antisemita ci sta molto attento va detto da questo punto di vista impeccabile. Tutto lì si può dire meno che antisemita per esempio da giudicare dalle solenze c'ha molti amici ebrei come si dice quindi tutto. Il Donbass è una zona complicata perché c'è una diciamo sì è una regione russofona per i motivi che dicevo prima da fine ottocento una regione dove ci sono moltissimi ucraini russofoni che non si sentono russi una regione dove c'è una grandissima emigrazione da tutto il paese che quindi non si sente né russa o né ucraina si sente per l'appunto sovietica ed è una regione dove c'è una tradizione di nazionalismo russo molto estremo quindi uno deve capire queste cose qua ed è una regione profondamente delusa dall'esperienza degli anni 90 perché è una regione che aveva i privilegi come hai detto te e li ha persi e ha visto questo sogno condiviso con Mosca questo spiega anche l'evoluzione di Mosca uno non si deve mai scordare che già nel 93 il partito di Girinovski che era un partito di nazionalismo estremo era il partito maggiore prima più voti nella repubblica russa altro che gli Ezi l'opinione pubblica era orientata in un certo modo è un miracolo che diciamo si è retto per un po' la la diciamo il Donbass quindi è una regione complicata in cui le scelte sono sostanzialmente aperte e visto che parliamo dell'Italia parliamo degli italiani va capito che non è nell'Istria quindi come a volte si sente non è un posto dove vivono i russi che vengono perseguitati dagli slavi come gli italiani in Istria no perché a volte uno sente il paragone anche a sinistra che riprendono solamente le 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 idee diciamo del nazionalismo italiano cioè il Donbass è come l'Istria si capisce perché c'è la guerra no il Donbass non è come l'Istria il Donbass è una zona mista in cui c'erano un sacco di ucraini molta gente non sentiva russa in Ucraina e molti molti estremisti russi in cui c'erano conflitti gestibili in una situazione aperta allora il problema in questa regione così mista qui torniamo a quello dicevamo prima la vera cosa che cambia le carte in tavola è a chi va non alla Russia o all'Ucraina va con l'Europa o va con l'Unione Eurasiattica una regione così questa è la scelta vera scusate lo dico perché mi ha fatto ridere una volta quando ero presidente dell'Anvoro una volta all'Unione degli Industriali di dove fanno le piastrelle Sassuolo mi chiamò a fare una conferenza del Donbass e mi disse ma a voi che ve ne importa il Donbass? e mi dice professore ma tutta la nostra argilla per fare le ceramiche di qualità viene dal Donbass cioè l'industria di Sassuolo era la più grande quindi guardavano al Donbass come il più grande lo dico per capire anche mille legami che uno non vede che legano l'Italia al Donbass e quindi il Donbass poteva benissimo essere una regione anche legata all'Europa perché fornisce materie prime o invece sta con quegli altri e la grande scelta è nel 14 quando Putin perdendo il suo proconsole a cui non riesce a fare quello che ha fatto Lukashenko in Bielorussia per tanti motivi ma adesso non li vediamo faccio presente siamo nel 2014 Putin ormai è convinto dell'Occidente debole da questo punto di vista due sono le cose fondamentali la crisi del 2008 che ha fatto vedere a tutti che il capitalismo tra virgolette finanziario americano europeo in crisi e poi le politiche di Obama va detto la politica anticinese iniziata da Obama che stacca gli Stati Uniti dalla Cina aprendo un enorme spazio per una politica io adesso non voglio dire che è colpa di Obama per carità però la scelta di fare una politica anticinese una volta la Cina è diventata di gran lunga la seconda superpotenza mondiale sicuramente apre spazi a chi non vuole l'Europa e gli americani sicuramente Putin nel 2014 è convinto di aver vinto faccio presente che ci sono le Olimpiadi a Sochi lui sta a Sochi, sta lì vicino ha appena avuto un trionfo gigantesco in quelle Olimpiadi sta costruendo il mondo russo c'è Lukashenko che gli garantisce la Bielorussia c'è l'Asia centrale solidificata c'è l'Ucraina governata Yanukovych e di colpo Yanukovych dice vado con l'unione euroasiatica e gli ucraini si ribellano quella è sicuramente una ribellione poteva perdere, vincere Putin dirà che è un golpe alcuni dicono non è un golpe è una ribellione come ce n'è tante nella storia dell'umanità questi non volevano il Parlamento del resto aveva votato uno potrebbe dire è vero il governo però il Parlamento fatto da una maggioranza anche di filo russi aveva votato per l'Unione Europea che era molto popolare anche tra gli aderenti al partito Yanukovych che adesso stanno tutti con Zelensky fra l'altro allora Putin si ritrova a dover decidere in fretta prima fa l'operazione Crimea che gli va benissimo lo dico per spiegare gli va benissimo perché in Crimea abitano sostanzialmente dei coloni russi perché i tatari furono deportati gli ebrei ammazzati i tedeschi etnici se ne andarono portati là da Caterina II se ne andarono con i nazisti eccetera 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 e poi prova dopo aver vinto così facilmente in Crimea e scusate in Crimea prova a fare l'operazione a Odessa che finisce tragicamente a Kharkiv e nel Donbass a Kharkiv pure finisce male molto subito presto nel Donbass viene fuori quella situazione diciamo di una regione di una grande regione dove ci sono molte forze conflittuali per cui i russi non sfondano non è come la Crimea non è vero che è una regione russa c'è una fortissima resistenza ucraina fortissima c'è una forte resistenza anche russi che sono a fuori dell'Unione Europea risultato le repubbliche popolari le eserciti popolari che sono fatti in realtà dal GRU cioè dall'amministrazione delle informazioni dell'esercito russo perché pure sta cosa Prigoji le compagnie mercenari quelle sono truppe del GRU addestrate nelle basi del GRU sono tutte truppe dei servizi segreti cioè adesso questo per dire quello che dovrebbero sapere tutti Prigoji non è un matto è uno che lavora con il GRU il capo di quello ha fondato la compagnia Wagner nel Donbass allora nacque allora la compagnia Wagner era mi pare un colonnello un generale di brigata del GRU quindi voglio dire sono operazioni decise negli apparati che trovano una base sicuramente e però perdono tant'è vero che l'esercito russo deve intervenire e consolida questa cosa la guerra inizia allora perché in realtà non si è risolta la situazione proprio per via di questa complessità del Donbass io credo che se si fosse votato probabilmente questi filo Unione Euroasiatica non filo Russia filo Unione avrebbero perso la verità è che probabilmente se a Mosca ci fosse stato un governo filo europeo e questo mi permette di dire un'ultima cosa interessante però il Donbass sarebbe andato con Mosca il problema non era quindi Mosca o no era sai una Mosca europea era vendibile anche al Donbass allora perché diciamo è molto difficile visto che è il vero problema dell'Europa ecco una cosa prima non ho detto profitto perché in realtà l'Unione Europea è una cosa complicata di cui noi stessi non ci accorgiamo perché se facevano il trattato di associazione con l'Unione Europea come poi hanno fatto automaticamente l'Europa non è una cosa politica come tutti sanno però è piena di regolamentazioni che tu devi rispettare se vuoi continuare nel trattato il confine che prima era poroso completamente aperto fra Russia e Fleina se io faccio un trattato di associazione dell'Unione Europea e devo rispettare come si imbustano le mozzarella e come si fa la non posso più far venire le mozzarella russe dico le mozzarella per dire una battuta salviniana diciamo così che si riprendono sempre però è vero l'Europa è fatta da mille regolamentazioni giustamente funzionano e se tu fai un'altra associazione vuol dire che il commercio russo ucraino non lo puoi più fare vuol dire che non puoi più far entrare la gente senza avere i controlli non puoi più far entrare i beni non puoi più far muovere le cose quindi è vero che la scelta Europa Unione Eurasiatica era una scelta a questo punto essenziale cose di cui non si è capito quindi non è una scelta Russia-Ucraina ecco non so vorrei concludere con questo e il problema vero è che appunto a Mosca c'è un gruppo che non vuole stare in Europa perché come dicono apertamente l'Europa è un posto corrotto la Russia è un'altra cosa è un mondo russo a parte con i suoi valori che ha diritto a essere come un continente a sé stante per riprendere l'espressione di Stalin Fantastico grazie davvero e appunto forse per per concludere ecco concludiamo perché non credo abbiamo molto tempo per concludere la nostra la nostra discussione di oggi però mi chiedevo se potessimo diciamo tirare tirare un po' le fila di tutte le importantissime questioni che hai che hai menzionato in relazione alla guerra 2014 2023 e tristemente probabilmente probabilmente oltre abbiamo abbiamo parlato abbiamo menzionato la rivoluzione la rivoluzione arancione del 2004 insomma iniziali iniziali momenti di cedimento all'interno dell'appena nata volontaria integrativa dello spazio post sovietico sotto l'egida di Mosca la crisi economica del 2008 che come Putin dichiara nei suoi discorsi prova che il capitalismo fatto come è fatto adesso non funziona più ha finito in volta faccia del 2013 di Yanukovic che in campagna elettorale dice una cosa e poi ai suoi stessi elettori dice che invece adesso si va con l'unione europeatica l'indebolimento occidentale di cui parlavi percepito da Putin anche in relazione al disastroso ritiro delle truppe americane e forse a questo volevo aggiungere un ultimo un ultimo elemento che mi hai fatto pensare menzionando menzionando soci cioè quella fondamentale interpretazione che Putin sta tentando di forzare sul suo stesso popolo di questa grande continuità tra tutte le fasi storiche della Russia imperiale sovietica federale un'idea primordialista impostata al conservatismo più più radicale che a soci nella cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi si manifestava col fatto che veniva venivano mostrate le coppie che ballavano in abiti tradizionali russi poi si passava così alla modernizzazione la modernizzazione staliniana che veniva presentata come una cosa positiva lo sturm und ranga che trasforma la nazione in potenza industriale e tutte le fasi preesistenze successive come appunto se si parlasse di una semplice lineare continuità e mi chiedevo se potessi dirci quanto questa questa visione di lungo periodo insieme con gli elementi insieme con gli elementi più congiunturali ha giocato e gioca un ruolo nella nella strategia putiniana in Ucraina e oltre ma io abbiamo pochi minuti quindi penso si gioca un ruolo fondamentale l'idea è quella della continuità io prima di criticare Putin però vorrei dire parlando sempre a colleghi anche questo modello del popolo eterno è condiviso pure a sinistra perché io quando sento parlare il popolo di sinistra con i suoi valori è la stessa cosa non c'è niente di continuo tutto cambia come diceva l'imperatore Claudio le cose le cose nuove diventano antiche le cose antiche diventano cioè la storia è proprio evoluzione negare questo è negare l'essenza della storia cioè non essere più storici non esistono identità che aspettano l'angelo che le viene a risuscitare diciamo queste esistono mitologie che vengono a risuscitare cose che vengono dichiarate vive ma che sono in realtà rifatte cioè uno dovrebbe essere un po' è tipico da questo punto di vista è molto impressionante lui sostiene che c'è una continuità dalla Rus di Kiev addirittura che si spiega con la sua alleanza con la chiesa ortodossa per cui i russi ucraini e i russi sono la stessa cosa il grande popolo russo tripartito questa è l'ideologia ufficiale di Alessandro III faccio presente alla fine dello zar conservatore per eccellenza Putin è un grande ammiratore Danilievski Danilievski il grande ideologo della destra amico di Dostoyevski diciamo Danilievski amico non lo so ma insomma vicino a Dostoyevski Danilievski scrive il famoso libro Russia e Europa mi pare il 1860 e qualche cosa Russia e Europa sono due cose c'è la Russia c'è l'Europa la Russia eterna non a caso uno dei quadri famosi Grazunov che ho messo nel libro si chiama Russia eterna c'è una Russia eterna dalla Russia di Kiev che è fatta di valori di Kost molto tradizionali eccetera 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 quindi questa è la continuità è fortissima e l'Unione Sovietica è vista come un brutto mondo russo una brutta forma presa da questa Russia eterna però anche lei con i suoi eroi che come hai detto te partecipa di questa Russia eterna io credo da questo punto di vista è il quadro lì famoso questa Russia eterna non a caso rovinata qua da un lato ci sta Trotsky l'ebreo Trotsky sulla Troica che porta la rovina la Russia eterna poi ripristinata allora questa ideologia come tutte le ideologie nazionaliste permettetemi la battuta è un po' cretina scusate se da un certo punto di vista cioè non è che c'è molto da intellettuale diciamo così ti dico c'è una Russia eterna con i suoi valori che non è Europa che c'è sempre stata e sempre ci sarà ovviamente è il contrario di ogni pensiero storico diciamo proprio il contrario di ogni pensiero storico il problema è che c'è un sacco di gente che ci crede non è che solo in Russia ecco vorrei io per punti russi come in Russia c'è un sacco di gente che non ci crede che è desolata che si dica che la Russia non fa parte dell'Europa che è desolata che la Russia finisca a fare l'ancella della Cina che è desolata anche da un punto di vista nazionale russo che la politica di Putin sta regalando l'Asia centrale alla Cina lasciamo perdere che io preferirei che l'Asia centrale fosse l'Asia centrale però dovendo essere di qualcuno a Mosca converrebbe essere a Mosca le cose sta facendo Putin stanno regalando l'Asia centrale alla Cina sicuramente allora ecco io vorrei concludere dicendo che questa politica come sempre accade con i nazionalisti ahimè che è il motivo per cui uno dovrebbe starci sempre molto attento pur amando la patria lo dico siccome in Italia adesso tutti amiamo la patria a me piacciono molto gli spaghetti allora detto questo i nazionalisti fanno i disastri alle patrie perché quando tu hai un'idea falsa della patria perché un'idea basata sulla sua identità è falsa per definizione e non immagini il suo futuro in ogni momento tu porti la patria alla distruzione come ha fatto Mussolini quando ha dichiarato guerra agli Stati Uniti io lo ricordo sempre non è gli americani hanno fatto guerra noi abbiamo dichiarato guerra agli Stati Uniti dicete ma era scemo no non era scemo era un nazionalista Putin quando ha fatto questa cosa qui ha detto scusate uno che invade l'ucranianismo con questo concetto è ugualmente pazzo gli ucraniani ti hanno detto non ti vogliono in tutti i modi possibili perfino quelle di Yanukovic e tu li invadi con le divise della parata perché sei convinto che sia vero quello che tu pensi perché il nazionalismo è cecità allora purtroppo però abbiamo un forte gruppo di gente che non va sottovalutato in Russia unito da queste idee che c'è una Russia eterna che gli altri sono così devono e come diceva che era Trecchi che lo diceva gli alsaziani ve lo insegniamo noi essere tedeschi no? c'è la famosa battuta nel parlate tedesco lo facciamo vedere voi che siete francesi è un po' così purtroppo ci troviamo con questo gruppo di gente si può sperare che prima o poi perda vorrei chiudere una battuta politica perché la Russia non è tutta così per niente è tutta così è pieno di russi che non pensano questo ecco questo va ricordato perché se no che hanno paura giustamente ma è così ecco io finirei con questa cosa grazie allora intanto io vi ringrazio moltissimo perché la vostra piacchierata non è stata soltanto molto interessante ma è stata anche molto molto chiara cosa per niente scontata visto che gli argomenti che stiamo affrontando sono estremamente complessi quindi veramente complimenti è stato estremamente interessante sono certa che sarà di estremo interesse per chiunque ascolterà questa registrazione io avrei avuto moltissime domande da fare purtroppo non c'è tempo però le accenno solo mi sarebbe piaciuto moltissimo avere un ulteriore approfondimento sulla classe dirigente Ucraina post Unione Sovietica mi sarebbe piaciuto molto avere un ulteriore approfondimento sull'accenno che ha fatto il professor Graziosi sul fatto che l'interpretazione degli italiani su quanto sta accadendo passa dal Donbass lì su quello appunto che pensano gli italiani e su cosa magari sbagliano o qual è la come dire la conoscenza che manca loro più 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 vistosa per avere come dire tutti gli strumenti per interpretare bene questo conflitto mi sarebbe mi sarebbe piaciuto molto approfondire ma penso che qui dovremmo fare un'altra puntata io risponderei esatto stavo per dire che su questo penso che avremmo veramente bisogno di fare un altro incontro e francamente io lo farei perché penso che sarebbe veramente molto molto utile io vi lascio nella speranza che si possa fare anche il terzo incontro che riguarda la presentazione del libro di Simona Merlo e qui colgo l'occasione per salutare e mandare un grande abbraccio alla nostra amica Antonella Salomoni vi ringrazio ringrazio davvero tantissimo il professor Giovanni Cadioli e il professor Andrea Graziosi per questo utilissimo incontro e vi do appuntamento alla prossima registrazione dei giovedì del Parri un saluto a tutti voi arrivederci arrivederci grazie grazie arrivederci grazie 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 grazie